Donne, du-du-du, pianeti dispersi, per tutti gli uomini così diversi. Donne, du-du-du, amiche di sempre, donne alla moda, donne controcorrente. Negli occhi hanno gli aeroplani per volare ad alta quota, dove si respira l'aria e la vita non è vuota. Le vedi camminare insieme, nella pioggia o sotto il sole, dentro pomeriggio pachi senza gioia né dolore. Donne, grazie Presidente. Ma come si legge quella frase? Senta Presidente, vogliamo dire questa cosa, che tutte le polemiche ci sono state su Direi, nel fatto che l'hanno accusata di essere un maschilista che non ha rispetto delle donne. Quest'oggi si fermano qui, perché il Presidente Bandecchi ha dedicato questa canzone, ci ha tenuto lui, per dedicare donne a... Guardi, il concetto è molto semplice. Per me uomini e donne sono esattamente identici nei diritti e nei doveri. Hanno una differenza di genere fantastica e questa differenza, secondo me, va anche tutelata e garantita. Ma certamente non sarò io mai a andare contro una donna. Presidente, una festa delle donne, vogliamo fare i curi? Una festa importante. Le donne sono importanti nella nostra società. Le donne portano spesso innovazione. Le donne hanno il dono della maternità. Io sono nato grazie a una donna, che ho voluto essere anche una mamma. Quindi io ringrazio tutte le donne del mondo per questa cosa importante che Dio ha concesso a loro e non a noi. Io sono nato grazie a tutti.